ciao a tutti oggi prepareremo il gelato veloce al caffè il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa gli ingredienti sono caffè congelato a cubetti latte intero congelato a cubetti zucchero semolato e vanillina andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e la vanillina chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo il caffè congelato chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 7 facciamo sgocciolare il coperchio adesso aggiungeremo il latte intero congelato a cubetti chiudiamo con il coperchio senza il misurino al posto del misurino posizioniamo la spatola e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità da 6 sino ad arrivare a velocità 8 il gelato veloce al caffè è pronto serviamolo subito gelato al caffè veloce grazie e alla prossima ricetta a 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